Ciao a tutti, sono felicissimo di essere qui con voi perché da quando è iniziata qualche giorno fa questo percorso una delle cose più belle che mi è capitata è la vicinanza, la possibilità, il calore, il sostegno di tutti gli esponenti del movimento che naturalmente io saluto e ringrazio per l'invito e ringrazio per avermi fatto sentire subito a casa Centro-sinistra Luciano D'Amico oggi in città ospire del Movimento 5 Stelle Possiamo dire che siamo qui per ascoltare anzitutto le richieste degli abruzzesi, le proposte degli abruzzesi e farlo qui con il Movimento 5 Stelle è un qualcosa che sono certo condurrà a eccellenti suggerimenti per il programma di governo che intenderemo porre all'attenzione degli abruzzesi Ascoltiamo, ascoltiamo le proposte, le rilevoreremo, le torneremo a proporle di nuovo agli abruzzesi perché penso che questa regione non possa più permettersi di indugiare nel decidere di riprendere in mano il proprio futuro Sulmona è una città meravigliosa, una città splendida la nostra regione è ricca di perle preziose e fra queste certamente Sulmona è una delle perle più belle Posso dire che Sulmona ha dei problemi che vanno risolti e la risoluzione di questi problemi è la strada per iniziare a percorrere il rilancio, a proporre il rilancio dell'intera regione Rilanciare Sulmona significa rilanciare la Valle Perigna, significa rilanciare la regione Abruzzo Siamo qui proprio per cercare di individuare le migliori soluzioni possibili e per offrire anche ai giovani sul Montini, alle giovani sul Montini la possibilità di rimanere qui a costruire il loro progetto di vita